Eeeh, bene a tutti ragazzi, sono il Cilberaga, sono qui oggi, tornato per fortuna, o purtroppo per alcuni, a farvi una settimana e mezza in vacanza Poi sono tornato, ho dovuto lavorare alcuni giorni secco e ora adesso sono di nuovo qui a fare i video per voi E oggi cos'è che vi porto? Mi porto un video in cui vi mostro 10 clip, se così vogliamo chiamarle, mie sniperate, fatte nell'ultima settimana, barra 2 settimane Però prima di iniziare voglio porvi una domanda, perché l'altra volta mi sono imbattuto in una live di Ciccio e ha fatto qualche sniperata carina E l'ho detto, ma ho pensato tra me e me, ma io sono più forte o no di Ciccio con lo sniper? Con le armi si è più forte di lui perché ho appena, cioè è da un mesetto che mi sono switchato a mouse e tastiera e non sono ancora preciso Però io trovo che come mira sia meglio lui, però con lo sniper io mi reputo al suo livello, se non leggermente maggiore Perché per chi non lo sapesse, io su Call of Duty, io arrivo da Call of Duty ed ero uno sniper Ci capo sempre solo con lo sniper, quindi mi reputo abbastanza bravo Fatemi sapere nei commenti, io comunque Ciccio lo seguo, lo stimo, perché è un ottimo player Fatemi sapere nei commenti e nulla, regà Direi che possiamo partire, però io switcho le cuffie e le metto nel computer perché adesso vi mostro le mie 10, 10 clips Allora ragazzi, mi vedrete un po' più storto perché il PC ce l'ho di fianco al monitor e sono un po' più lontano Comunque, dovrebbe essere tutto normale Allora, io direi che possiamo partire tra 3, 2, 1, via Allora raga, la prima sniperata che vi porto è una sniperata che ho fatto insieme a un mio amico Ed è molto molto carina, trovo Perché si vede proprio pochissimo la testa e io BAM! Abbastanza quasi in quick, non proprio quick però non male Qua eravamo in una situazione di merda, infatti poi siamo morti Però ho detto, provo almeno a tirarne giù uno col cecchino Infatti ci sono riuscito Peccato che non abbia preso in testa anche l'altro Se no avrei tramortito i due e avremmo potuto pushare Però purtroppo non sono riuscito Cioè non ho fatto l'headshot Qua invece eravamo sempre in una situazione di merda Però sono riuscito a tramortire quello Quindi siamo passati in una situazione di vantaggio Quindi sono riuscito a prenderlo e a vincere il fight Qua ragazzi secondo me è una sniperata assurda Perché guardate Qua sono in situazioni chiaramente di svantaggio Boom! Headshot Paura, trovo Fatemi sapere nei commenti qual sarà la vostra clip preferita tra queste 10 qua Questa qua forse è una delle mie preferite Qua invece ero in solo Questa qua è carina Niente di eccezionale perché non l'ho preso in testa Qua io non so perché non mi metto l'headshot Speravo mi desse l'headshot Però boh Era abbastanza carina anche questa Qua eravamo in due contro due io e mio compagno Noi eravamo al bordo della save Loro erano fuori save Quindi eravamo leggermente in vantaggio noi Però loro erano sopra Qua sono riuscito a prendere un bel headshot Infatti siamo passati in una situazione di due contro uno L'altro non poteva tramortire Non poteva arrestare il compagno Infatti poi abbiamo inventato la partita Come vedrete adesso Perché giustamente non poteva arrestarlo Se ho dovuto buttare giù Io ho provato a prenderla al volo Ma non ci sono riuscito Perché non sono ninja E comunque abbiamo inventato la partita Qua allora io vi dico Non sono un amante delle fucile da caccia Però è bello quando Ti entrano gli headshot con sto fucile qua Infatti qua ero in solo Ho fatto un bel headshot E beh è bello quando ti entra l'headshot Però preferisco l'altro cecchino Io mi trovo molto meglio Qua sempre un altro kill di fucile da caccia Qua mentre si muoveva Abbastanza carina questo qua Per fortuna non era full vita Perché se no non l'avrei tirato giù Perché è tolto solo 75 Però l'ho preso bene Mentre si muoveva Questa qua è assurda Guardate che quick È assurda questa Boom Questa qua è veramente assurda Forse questa qua è la mia preferita in assoluto Perché è veramente veramente carina Qua invece faccio una bella Una bella clip Sempre col fucile da caccia Io ve lo dico Non sono un player fortissimo Però col cecchino Me la cavicchia E mi reputo abbastanza bravo Qua ci hanno preso a vicenda però Io l'ho tramortito Lui no Perché io l'ho preso in testa E lui non l'ho preso in testa Qua ovviamente poi l'abbiamo pushato E l'abbiamo ucciso Giustamente Anche perché erano due contro uno Quindi non è che avessi tanto da fare Vabbè che io avevo poca vita Però alla fine Ho fatto la double kill Quindi non è eccezionale Però Rega Fatemi sapere Quale delle dieci vi è piaciuta di più Intanto ho i capelli Messe indietro Malissimo E fatemi sapere qual è Vi è piaciuta di più Ditemi la uno La due O la tre E nulla rega Vedete che possiamo Lasciarci Cerchiamo di arrivare a 70 likes E nulla rega Ci vediamo Al prossimo video Au